Il Comune di Caltanissetta intende aggiornare l'elenco degli avvocati mediante acquisizione dei curriculum professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ente, nonché per ogni assistenza di carattere giuridico e legale oltre alla difesa tecnica. La finalità della presente procedura è di permettere l'individuazione di avvocati qualificati a cui affidare in carichi esterni in seguito ad un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità e comparazione nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza. Gli avvocati, interessati a essere inseriti nell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali istituito presso lente, potranno richiedere l'iscrizione o l'aggiornamento della propria posizione tramite il sito del Comune di Caltanissetta. Il termine per la presentazione delle domande è fissato il 28 febbraio 2023 alle ore 12.